Al Bar del Quindici non ci si annoia mai! Vieni a scoprire il nostro happy hour, l'apericena e il venerdì, il gustosissimo aperipesce! Ma non è finita! Il Bar del Quindici dispone di un'ampia sala per feste private. Inoltre potrai assaporare il caffè più buono della capitale, vedere tutte le partite di Champions League e ogni venerdì e sabato musica live per accompagnare la tua serata. Corri a trovarci! Il Bar del Quindici ti aspetta tutti i giorni a Roma in Via Giuseppe Perrucchetti 32, zona Casalbertone. Infoline 06 4393 940